I soggetti politici sicilianisti che si riconoscono ormai da tanto tempo sotto la leadership di Gaetano Armao, oggi vicepresidente della regione, confluiscono in un unico movimento, quelli che erano Sicilia Nazione, il Movimento Nazionale Siciliano e l'Unione dei Siciliani Indignati che era stata fondata da Armao, si riuniscono in un nuovo movimento che prende il nome di Unione dei Siciliani, la Sicilia ha bisogno di un soggetto politico che ne difenda i diritti e che difenda gli interessi dei siciliani, noi stiamo costruendo esattamente questo. Quali saranno le priorità? La prima delle priorità è l'attuazione integrale dello statuto, lo statuto siciliano è stato prima assolutamente disapplicato e poi contestato dagli stessi che l'avevano disapplicato. Invece noi nello statuto abbiamo la summa di tutti i diritti che la Sicilia ha conquistato nei secoli e che le competono. Poi noi chiediamo la fiscalità di vantaggio e chiediamo che le accise vengano inserite nello statuto perché chiaramente nel 1946 non erano inserite e chiediamo un grande piano di infrastrutturazione per la Sicilia per renderla pari alle altre regioni italiane. A proposito di accise e di fiscalità di vantaggio, questa potrebbe essere la giusta opportunità? Diciamo che è un momento nel quale abbiamo la possibilità di rivendicare questi diritti. Io credo che sia il governo regionale nei confronti di Roma sia speriamo il governo nazionale prossimo possano lanciare un grande progetto a favore della Sicilia. L'Unione dei Siciliani, che è il nuovo soggetto che nasce oggi, lavorerà esattamente per questo, lavorerà per costruire una difesa, una diga difesa dei diritti della Sicilia.